La dodicesima edizione dell'era moderna del Palio della Vittoria di Anghiari ha visto trionfare Alessandro Porazzini. Il rappresentante del comune di San Giustino Umbro ha percorso 1.440 metri che separano la Cappella della Vittoria con Piazza Garibaldi in 5 minuti e 34 secondi, con un vantaggio di 8 secondi sul corridore anghiarese Daniele Ventricini e di 10 secondi sull'atleta di Città di Castello Francesco Fratini. La gara podistica celebra la Battaglia di Anghiari che il 29 giugno del 1440 ridisegnò i confini della Toscana e che fu poi resa celebre da Leonardo da Vinci. Una competizione senza esclusione di colpi nel vero senso della parola. Il regolamento infatti ammette trattenute, placcaggi e spinte ed è caratterizzato dalla difficile salita della Ruga di San Martino. Alessandro Porazzini, 32 anni, ha vinto la sfida schivando gli scontri ai diversivi consumatisi nel corso della gara, rimontando Daniele Ventricini nel tratto più impegnativo dell'erta salita, regalando a San Giustino il secondo successo della storia a tre anni di distanza dalla vittoria di Cristian Marianelli. Il comune Umbro sale così nell'Albo d'Oro a due successi a pari merito con Sansepolcro e dietro Anghiari e Pieve Santo Stefano con tre vittorie. Fanno a linea di coda, Arezzo e Città di Castello con un solo successo.